La vicenda dello stadio Bonolis ha aggiunto un nuovo capitolo. Il Teramo Calcio, dopo il blocco delle trattative di lunedì, ha avanzato una proposta economica al gestore Franco Iachini per ottenere l'uso dell'impianto di Piano Daccio, esclusivamente per il derby di domenica contro l'Avezzano, senza però rinunciare al ricorso contro il decreto ingiuntivo presentato da Iachini. Quest'ultimo però ha risposto che non è possibile concedere lo stadio per una sola partita, in quanto la Convenzione prevede la firma di un accordo annuale che va comunicato alla Lega Nazionale Direttanti con la prima rata del pagamento fissata per il 15 novembre. Questo accordo annuale potrebbe decadere automaticamente, qualora il Consiglio Comunale nella seduta di lunedì ratificasse il trasferimento della gestione sportiva allo stesso comune, che dovrebbe poi versare a Soleia la società di Iachini i primi 2 milioni di euro, in un totale di 4,3 milioni. Tuttavia il Teramo non intende impegnare fondi per un contratto annuale prima della decisione del Consiglio Comunale del 30 settembre. Di conseguenza, a meno di cambiamenti dell'ultimo minuto, la partita contro l'Avezzano si giocherà a Notaresco, dove è già iniziata però la risemina del terreno di gioco del Camposavini. Nel tardo pomeriggio di ieri la società del Teramo ha emesso un comunicato annunciando i contenuti di una pecca inviata a Iachini, dove è stata formalizzata una proposta per il versamento dell'intera somma richiesta, circa 38 mila euro, in un'unica soluzione per consentire lo svolgimento della gara al Bonolis, pur mantenendo l'opposizione all'ingiunzione ricevuta. Poco dopo è arrivata la risposta da parte della Soleia, accogliamo la proposta di pagamento senza riconoscimento di debito, ma solo a condizione che venga versata l'intera somma richiesta del decreto ingiuntivo, comprese le spese delegali. Tuttavia tale pagamento non è sufficiente per autorizzare l'uso dello stadio, che richiede per legge la sottoscrizione di un ulteriore accordo di convenzione per la stagione in corso.